segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io penso che ellis line venga da una storia diversa ha vinto le primarie promettendo la rivoluzione nel pd anche rispetto al pd del passato anche al mio pd al pd riformista ha detto che avrebbe cambiato tutto ha detto che avrebbe fatto il referendum sul jobs act ha detto che avrebbe sostenuto le battaglie dei cinque stelle super bonus reddito di cittadinanza poi però in questo periodo a conte che le scappa cioè lei non riesce a fare un accordo con conte perché perché conte un po di qua un po di là conte è uno zig zag vivente vivente è una banderuola conte 1 che stava con salvini sull'emigrazione poi è diventato con zingaretti e bettini riferimento dei progressisti dai ma di che parliamo quindi elli è una grande incognita ancora io penso che loro due giorgia edelli che sono due donne che sono due donne giovani avranno tutto l'interesse a legittimarsi l'un l'altra quindi faranno i confronti televisivi si candideranno a meno che giorgia non candidi la sorella per tanti motivi e poi vedranno di cercare di fare il pieno nei rispettivi schieramenti la mia scommessa è esattamente questa loro stanno a radicalizzare lo scontro su loro due io dico se volete votare qualcuno che parla non di pandoro o di job di di reddito di cittadinanza ma che prova a parlare di europa di geopolitica e anche mi lasci dire delle condizioni quotidiane su cui l'europa impatta perché quando parlo di mess sanitario sto dicendo liste d'attesa stipendio dei dottori stipendio degli infermieri esami diagnostici è uscito oggi un dato che mi ha sconvolto un miliardo di euro è la cifra che le famiglie italiane hanno preso in pest in prestito nel 2023 per curarsi cioè